Partita intanto è la prima serie del 2800, con il campione Davide Raineri, categoria M50, alla caccia del record italiano, 2-0-1 di Fatuzzo, all'interno di Alfredo Evigliore, 1-5802. Seconda posizione, adesso a seconda posizione Raineri Davide, che tenterà di fare il record italiano, tra categoria M50, che è fissato sul 2 minuti, un secondo, se non sbaglio, 78 centesimi, quindi da seguire anche la borsa di Raineri Davide, della Downy Rounding, adesso che si sta portando in prima posizione, passaggio, passa in un minuto, come aveva già previsto, in un minuto, 0-1. Deve incrementare il ritmo, ne ha sicuramente le possibilità, sicuramente. E dobbiamo sentire tutte le varie fasi della gara, perché il tempo è di 2 minuti, il secondo, lui è costante nella sua gara, non fa progressioni, 1-30 il 600. Perfetto. Attendiamo, deve fare il 31, gli ultimi 200 metri, Raineri, che sta sorpassando adesso da CBR Fabiano, dalla pittica Valdino. Non sta mollando, Davide, forza Davide, qui ci siamo, è 2-1-78 il record italiano, la categoria M50. Sono leggermente immallato, però dovrebbe farcela, anche perché è il primo che ha incrementato, e sta tenendo, sta tenendo, sta tenendo. Siamo lì lì, siamo lì lì, siamo lì lì, attendiamo il riscontro ufficiale cronometrico per annunciare l'ufficialità del nuovo record italiano. Comunque si è avvicinato molto, è questione forse di centesimi di secondo, vedremo, vedremo.